Un problema grave di cui finalmente si inizia a prendere coscienza. Non è facile ammettere che in Veneto la criminalità organizzata stia piantando radici profonde, ma le indagini e gli oltre 100 arresti eseguiti dalle forze dell'ordine in questi ultimi mesi stanno dimostrando come anche in questa regione mafia, camorra e indrangheta rappresentino una tra le questioni più urgenti da risolvere. È stato ricordato anche dal comandante uscente come non possiamo più parlare di episodi incidentali ma di un radicamento strutturale della criminalità organizzata in tutta la regione. In particolare le ultime inchieste hanno dimostrato nella provincia di Venezia. Nel litorale abbiamo visto l'indagine di Eraclea, quella poi partita da Torino ma che ha avuto un risvolto importante anche a Iesolo e poi le indagini in corso da molto tempo sul tronchetto. A metà luglio il deputato mestrino Nicola Pellicani è portato in Veneto la commissione antimafia a quattro anni dall'ultima missione risalente al marzo 2015. Da allora era stato rilevato un ulteriore radicamento della malavita organizzata. Le audizioni di quest'estate avevano dipinto un quadro inquietante sulla presenza delle mafie a Venezia in provincia. Una situazione complessa che dovrebbe essere affrontata con un organico adeguato in particolare in procura dove si registra una carenza cronica di personale. Non bisogna sottovalutare il problema, noi siamo abituati a rimuovere questo tema perché le mafie hanno tanti modi di manifestarsi. Qui non si manifestano fortunatamente in modo violento, col sangue però sono molto radicati nel tessuto economico della società e su questo bisogna fare un'attività di informazione, di conoscenza e anche di repressione ovviamente. Grazie a tutti.